Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia. I titoli? Musica Per un anno una società di consulenza scompare al fisco. La finanza ricostruisce gli affari e scopre un'evasione da 200 mila euro. L'imprenditore è denunciato, scatta il sequestro di beni e denaro. Boccone amaro per il comune di Montanto che voleva risparmiare mettendo il fotovoltaico sul tetto della scuola. La sovrintendenza dice no all'edificio pur non particolarmente di pregio e sottomiglio. E' stato trasportato al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano il 44enne di Marzano rimasto ferito nell'incendio scoppiato ieri la nitrochimica di San Giuliano Milanese. Le sue condizioni restano gravi a causa delle ustioni di secondo e terzo grado sul volto, torace e altre parti del corpo. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sull'episodio per incendio colposo. Nella giornata di oggi è proseguito il lavoro dei vigili del fuoco per lo spegnimento dei focolai e la demolizione del capannone distrutto dalle fiamme. L'amministratore della nitrochimica ha dichiarato, tranne la palazzina uffici, l'azienda è andata completamente distrutta, ma l'unico pensiero al momento è rivolto ai due feriti e ai loro familiari. Questa mattina a Voghera un fatto di cronaca davvero drammatico. Un uomo è morto dopo essere stato punto da un calabrone in giardino. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il servizio. Tragedia domestica a Voghera, un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente un calabrone, venerdì mattina mentre si trovava nel giardino di casa. L'uomo, di professione magazziniere, sarebbe subito rientrato nell'abitazione, forse per medicarsi, ma nel giro di pochi minuti si sarebbe sentito male. In immediato l'allarme al 118 sul posto sono intervenuti i sanitari che gli hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Poco dopo il ricovero però il suo cuore ha cessato di battere. L'uomo è deceduto e le esatte cause della sua morte dovranno essere accertate con scrupolo. Tuttavia, secondo quanto è emerso finora, tutto porterebbe a pensare ad una reazione allergica seguita da sciocana filattico causata dalla puntura di un insetto. Secondo i dati diffusi da ADN Cronos Salute, sarebbero almeno 10 gli italiani che ogni anno perdono la vita a seguito di sciocana filattico dopo punture di insetti come calabroni, api o vespe. Due gravi incidenti nella giornata di oggi in Lomellina hanno visto coinvolti due motociclisti. Il primo è avvenuto poco prima delle 8 di mattina a Gravellona in via Circonvallazione. A rimanere ferito è stato un giovane di 35 anni che è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico San Matteo. Alle 12.30 invece scontro tra una moto e un furgone a Sartirana sulla strada Permede. Un uomo di 65 anni è stato trasportato con l'elisoccorso a San Matteo e lì ricoverato in codice giallo. Uno scontro tra due auto invece si è verificato nel primo pomeriggio sulla Statale 35 in territorio comunale di Certosa di Pavia. Nessun ferito grave ma importanti ripercussioni sulla circolazione stradale. La vicenda del piccolo Eitan, se avete seguito le scorse edizioni saprete già che nonno Shumuel Pele che ieri si era consegnato in Italia parlando tra l'altro lungamente con i magistrati della Procura di Pavia. Il termine è stato rilasciato. Andiamo a capire però quali sono gli ultimi sviluppi di questa vicenda. La sua condotta dimostra che ha recuperato l'autocontrollo o meglio come ha scritto il giudice per le indagini preliminari Pasquale Villani indice di recupero di un primo commendevole self-restraint. Per questo a Shumuel Peleg accusato del rapimento del nipotino Eitan unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone dello scorso anno martedì il Tribunale di Pavia ha concesso la revoca della custodia cautelare in carcere. Dopo l'arresto da parte della squadra mobile appena atterrato in Italia all'aeroporto di Malpensa e un lungo interrogatorio di garanzia durato più di cinque ore, l'uomo ha potuto tornare a Tel Aviv. Peleg ha scritto il GIP di Pavia nell'ordinanza appena depositata, ha deciso di sottoporsi volontariamente all'interrogatorio a dispetto della mancata cooperazione dello Stato di Israele alla richiesta di estradizione e di attenersi scrupolosamente, prosegue il giudice, ai provvedimenti delle autorità italiane. Elementi questi dunque, secondo il Tribunale, da valutare positivamente. Come detto, Peleg, 59 anni, era accusato di aver rapito il nipote l'11 settembre 2021 per portarlo a Tel Aviv. Evitato il carcere, per lui restano le prescrizioni come il divieto di dimora nelle province di Pavia, Milano e Varese e di avvicinarsi al bambino se non autorizzato. Peleg, assistito dai legali Paolo Sevesi e Sara Carsaniga, ha portato la sua versione dei fatti dicendo che pensava di non commettere alcun reato e che voleva solo il mero ritorno del bambino in Israele lontano dai riflettori, togliendolo così dalla sfera di controllo della zia Aya che era stata indicata come tutrice in precedenza. Nonostante il suo ravvedimento, secondo il GIP, al contrario, rimangono fermi gravi indizi di colpevolezza a suo carico perché ha avuto lucida contezza del tenore illecito del programmato espatrio realizzato anche grazie ad un presunto complice, Gabrielle Alon Aboudbul capace di garantire un'esfiltrazione con tecniche di intelligence e non certamente da tour operator. La sua decisione di presentarsi davanti al GIP, tuttavia, è un elemento che va apprezzato ha spiegato ancora il giudice come attenuazione del pericolo di reiterazione del reato. Nonostante le accuse contro Nonno Peleg rimangano, le sue azioni restano di notevole gravità secondo la giustizia italiana e per questo l'uomo dovrà essere processato. Si sono svolti oggi gli interrogatori per gli arrestati nell'ambito dell'operazione contro l'Andrangheta compiuta martedì dalle compagnie della Guardia di Finanza di Milano e Pavia. Si sono avanzi della facoltà di non rispondere ai principali indagati a cominciare da Davide Flachi, considerato a capo dell'Associazione per delinquere che sarebbe nata sulle ceneri di quella guidata dal padre Pepe dedita al traffico di droga e armi con estorsioni aggravate dal metodo mafioso e frodi assicurative. Per domani è attesa la decisione del giudice sulla convalida dei fermi e delle misure cautelari in carcere, secondo quanto depositato dai PM milanesi Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi e da quello di Pavia Andrea Zanoncelli. Un'altra operazione della Guardia di Finanza che stavolta invece riguarda il recupero dell'evasione fiscale ha portato a scoprire un'azienda pavese che era sconosciuta al fisco. Ha lavorato un anno intero senza dichiarare le sue entrate al fisco ma alla fine è stato scoperto e denunciato dalle fiamme gialle. La Guardia di Finanza di Pavia al termine di una lunga attività di indagine ha messo a fine all'ennesima truffa i danni dello Stato messi in atto dal titolare di una società pavese che opera nel settore della consulenza aziendale e che era completamente sconosciuta al fisco. Nelle scorse ore è scattato un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro in denaro contante, immobili ed autoveicoli che erano nella disponibilità della società e del suo amministratore. Nel corso dell'indagine i finanzieri pavese hanno analizzato la documentazione contabile della ditta riesaminando tutti i conti e ricostruendo tutti i rapporti commerciali. Approfondendo ogni singola operazione ed incrociando i dati delle fatture gli agenti sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo aziendale. È emerso che tutte le operazioni commerciali effettuate nell'anno di imposta 2018 sono avvenute senza che il titolare presentasse le dichiarazioni fiscali necessarie. Di fatto l'amministratore della società è riuscito a evadere oltre 106.000 euro di imposte sui redditi e circa 98.000 euro di IVA. Per l'uomo è scattata quindi una denuncia per omessa dichiarazione fiscale. Il GIP del Tribunale di Pavia ha poi emesso il decreto di sequestro dei beni eseguito dagli agenti della Guardia di Finanza su delega della Procura del Capoluogo. Sono due i pazienti della provincia di Pavia ricoverati al Policlinico San Matteo con febbre West Nile. Si tratta dei primi due casi registrati sul territorio nel corso del 2022. I pazienti sono entrambi ultra 65 anni. Il contagio sarebbe avvenuto attraverso la puntura di zanzare autottone, zanzare cioè presenti sul territorio pavese. Le condizioni dei degenti ricoverati nel reparto di malattie infettive non sarebbero gravi. E siamo al capitolo che purtroppo è ormai praticamente quotidiano dedicato al caro dell'energia. Quest'oggi vi portiamo in un'azienda di Casorate Primo che sta cercando di fronteggiare questo problema soprattutto con una grande attenzione agli sprechi. I costi aumentano, aumentano anche per chi come i soci di Confartigiano Autopavia fanno degli acquisti collettivi. Si continua a risparmiare rispetto al mercato tradizionale ma anche qui insomma si parla di un quintuplicamento del costo dell'energia. Vediamo il servizio. Ridurre gli sprechi e pianificare con attenzione le spese nella speranza che il governo possa intervenire in tempi rapidi. Il caro bollette rimane la prima preoccupazione per gli imprenditori costretti a fare i conti con aumenti vertiginosi che rischiano di ripercuotersi anche sulle vendite. Significa dover restare ancora più attenti a tutti gli sprechi, significa dover rischiare di aumentare il costo del prodotto finito con un conseguente rischio di riduzione delle vendite. Negli ultimi mesi la situazione come è stata per lei, per la sua azienda, in termini pratici sia di ordini che di produzione? Come ordini non abbiamo grossi problemi al momento. Abbiamo dovuto però già pianificare degli aumenti di listini e aspettare poi quello che succederà, come lo sopporteranno i clienti, che impatto avrà, questo lo vedremo nei prossimi mesi. Abbiamo già fatto un cambio di tutto il parco illuminazione, passando all'illuminazione a LED, e questo garantisce sicuramente un minor consumo. E poi ci siamo affidati a un gestore valido che segue le industrie artigiane, Confartigianato. Confartigianato ha costituito tre consorsi per l'acquisto e la vendita di energia agli associati che permettono alle imprese di abbattere i costi. Il prezzo applicato è però riferito al PUN, il prezzo unico nazionale che da mesi continua ad aumentare e così diventa difficile calmerare i prezzi. Il prezzo dell'energia aumenta, è una conseguenza del prezzo del gas, perché in Italia per produrre energia consumiamo gas e di conseguenza il gas determina il prezzo dell'energia. Prima del 31 dicembre 2021, come Confartigianato eravamo intorno allo 0,10, l'attuale prezzo a PUN di questi giorni sfiora allo 0,60. 60 centesimi a kilowatt, quello è il prezzo puro. Poi ovviamente le varie società di vendita, quello che è, devono applicare lo spread e quant'altro, che è la loro fee, la loro provvigione. Noi come Confartigianato l'abbiamo praticamente ai minimi e per quanto riguarda i domestici non l'applichiamo addirittura. Però è una condizione difficile per sia gli imprenditori che per le famiglie. Abbiamo ricevuto chiamate sia dalla nostra utenza che da associati e non associati che volevano informazioni. Purtroppo i rincari ci sono e nelle bollette del prossimo inverno si sentiranno. Come dicevo poco fa, si spera sempre in un tetto massimo applicato dal governo per poter creare delle nuove strategie di risparmio. In questa azienda di Casorate Primo si realizzano macchine agricole. Il titolare ci racconta che al momento non ci sono problemi con gli ordini, nonostante le difficoltà del comparto, ma che i prossimi mesi potrebbero essere complicati. Sappiamo, sentiamo spesso, insomma, le imprese agricole che ci parlano della siccità, dei problemi causati, dell'adimezzamento delle rese, insomma, è un problema che tocca poi tutto l'indotto. Assolutamente. Noi lo vedremo l'anno prossimo perché gli ordini che avevamo in portafoglio quest'anno arrivano da dicembre-gennaio. La siccità è stata dopo, per cui vedremo novembre, dicembre, gennaio cosa succederà. Tutte le iniziative per poter risparmiare energia e magari anche produrla vengono messe in campo sia dai privati che dagli enti pubblici. Stasera vi raccontiamo una storia davvero particolare, quella del comune di Montalto Pavese, che aveva attuato un piano per ristrutturare l'immobile comunale, che ospita anche le scuole e per posizionare dei pannelli fotovoltaici in maniera da produrre energia, tanto più preziosa in questo periodo. Si è visto però per i pannelli fotovoltaici dire un no da parte della sovrintendenza perché questo immobile, adesso vedrete le immagini, viene considerato oggetto di tutela e quindi per motivi paesaggistici non può avere il fotovoltaico sul tetto. Il sindaco ha abbozzato però, insomma, probabilmente avrebbe preferito un esito differente da questo esame della sovrintendenza. Niente fotovoltaico sul tetto del comune e della scuola al primo piano e così a Montalto Pavese i cittadini e gli alunni della scuola materna dovranno accontentarsi della sostituzione degli infissi. I lavori, per circa 130.000 euro suddivisi in due lotti, dovrebbero iniziare a breve e concludersi in tempo per la stagione fredda. Un bel aiuto e un lavoro necessario, senza dubbio, per sprecare meno energia. Ma dall'altra parte, nota il sindaco Angelo Villani, il fatto che lo stop all'impianto fotovoltaico sul tetto, che avrebbe permesso di rendere autosufficiente tutto l'edificio, sia arrivato per questioni estetiche da parte della sovrintendenza ai beni architettonici, in un tempo di grave emergenza come quello attuale, pone inevitabilmente degli interrogativi sulle priorità di questo momento storico. La nostra prima intenzione era quella di, utilizzando il bando energetico, era quella di posizionare dei pannelli fotovoltaici sul tetto del municipio. Era un intervento molto interessante, soprattutto nel clima attuale di crisi energetica. Purtroppo, essendo il palazzo comunale un bene architettonico storico, ci sono dei vincoli della sovrintendenza che ci impediscono di posizionare i pannelli fotovoltaici in qualsiasi modo, pur nascondendoli, pur incassandoli nel tetto. Quindi abbiamo qualche difficoltà, abbiamo dovuto per il momento soprassedere a questo tipo di intervento nel tentativo poi di trovare una soluzione a questa problematica. È una soluzione che si prospetta su altri edifici, la state studiando insomma? Sì, stiamo studiando una soluzione alternativa. Renderebbe autonoma la gestione di tutto il municipio, non dimenticando che la parte superiore, cioè il primo piano sopra il municipio, è adibito a scuola primaria. E quindi prevediamo già, come i miei colleghi sindaci prevederanno per loro, un inverno molto difficile da un punto di vista dei costi energetici, sia per il riscaldamento che per l'energia elettrica. Questi fondi che dovevano essere destinati alla produzione di energia per rendere autonoma questa struttura, sono stati reimpiegati o verranno reimpiegati per altri interventi sempre in campo energetico? Sì, certamente. Non potendo effettuare un intervento per quest'anno di questo tipo, abbiamo deciso di rigirare questi fondi nella sostituzione di tutti i serramenti del municipio che vedete alle mie spalle. Abbiamo dovuto però incaricare la fallegnameria di fornirci dei serramenti in legno perché così venivano richiesti dalla sovrintendenza stessa. E quindi diciamo che da un punto di vista poi operativo, lasciando perdere alcune difficoltà, alcuni costi che magari sono sicuramente maggiori e anche il problema di una eventuale manutenzione ai prossimi anni, una soluzione bene o male l'abbiamo trovata. Ecco, è abbastanza importante invece sottolineare quanto non si possa trovare una soluzione a quello che dicevo prima. Siamo in un momento molto difficile e sarebbe opportuno riuscire a ragionare al tavolo e trovare una soluzione che possa rispettare da un lato il bene architettonico e quindi tutta la struttura, l'immagine e anche l'aspetto estetico esterno. Dall'altra però sicuramente possa permettere una funzionalità e un risparmio da parte degli enti locali e in questo caso del comune per la gestione energetica che sappiamo tutti e anche tutti i cittadini lo sanno sulla propria pelle nelle loro case essere un problema gravissimo in questo momento. Questa mattina l'Assemblea per il diritto alla casa è stata l'assessorato ai servizi sociali del comune di Pavia insieme a due famiglie in grandissima emergenza abitativa. In un caso, spiegano gli attivisti, parliamo di una famiglia che si è ritrovata senza casa senza che venisse eseguito un regolare sfratto a causa della lunga assenza della stessa famiglia dall'abitazione per gravi e improvvisi problemi di salute. Rivoltisi per la prima volta ai servizi sociali, si sono sentiti dire che il comune non può fare nulla e che se vengono trovati a dormire in macchina i figli verranno tolti ai genitori. Nel secondo caso invece, continuano dall'Assemblea per il diritto alla casa, parliamo di un invalido che dopo aver dormito lungo in auto ora è al dormitorio nonostante una buona posizione nella graduatoria per le case popolari. Troviamo inaccettabile, concludono gli attivisti, che il comune di Pavia si rifiuti di trovare risposte concrete alle emergenze abitative. L'assessore, in seguito alla visita, ha preso l'impegno di incontrare personalmente le famiglie in tempi brevi per valutare le possibili soluzioni. Ci aspettiamo risposte concrete in tempi rapidi per tutte le famiglie che si trovano in emergenza abitativa. Rimaniamo a Pavia, cambiamo però radicalmente argomento per un'iniziativa dedicata allo sport che si terrà al Parco della Vernavola. Trasformare la città in una palestra a cielo aperto per consentire a tutti di fare sport. Anche Pavia è tra le città che parteciperanno a Sport City Day, iniziativa lanciata dalla Fondazione Sport City. L'idea alla base è quella di promuovere l'attività fisica come strumento per il benessere dei cittadini. La Fondazione Sport City è una fondazione che è nata lo scorso anno su volere dell'ex segretario della Federazione Italiana di Tietra Leggera, Fabio Pagliara. Diventandone presidente, lui ha scelto di regalare e di offrire un'opportunità a tutte le città, sportivizzando appunto le città con le varie discipline che possono essere realizzate in ogni singolo ambiente. Si è partiti con l'edizione del 2021 un po' ibrida proprio a causa delle restrizioni del Covid, con appunto 18 città in tutta Italia. Quest'anno saranno 36 le città che hanno aderito al progetto Sport City Day e Pavia ovviamente fa parte di queste 36 città che hanno accettato. Lo Sport City Day si terrà in 36 città italiane domenica 18 settembre. A Pavia l'iniziativa si svolgerà al Parco della Vernavola dalle 10 alle 15 e vedrà la partecipazione di diverse associazioni sportive cittadine. Alla fine della giornata poi alcuni volontari ripuliranno l'area dai rifiuti. Inizieremo con delle attività molto inusuali rispetto al consueto perché si andrà dalla camminata alla bicicletta, alle danze medio orientali, allo yoga. Si farà poi un'attività di autodifesa femminile ed infine anche un'attività importantissima che rientra un po' nelle caratteristiche e nella mission di Sport City Day, vale a dire il plugging, ovvero la raccolta dei rifiuti nel parco. Sto parlando di parco, si parlerà di parco della Vernavola perché questa sarà la location dove il Sport City Day Pavia verrà ospitata. Quindi 18 settembre, dalle 10 alle 15, la manifestazione è chiaramente aperta al pubblico. C'è una pagina Facebook che è Sport City Day Pavia sulla quale vi invito ad accedere, cliccare e vedere tutti gli aggiornamenti che nei prossimi giorni e che stiamo già pubblicando in questi giorni. Questo sicuramente è un evento che concretizza quello che abbiamo sempre seguito. In più, a parte questo evento importantissimo, lo Sport City Day del 18 settembre, noi anche nei mesi scorsi abbiamo cercato di valorizzare il territorio attraverso lo sport, in particolare anche la zona della Vernavola, il parco della Vernavola, dove si svolgerà questo evento molto importante il 18. Quindi non abbiamo fatto altro che accogliere di buon grado la richiesta che Pavia fosse inserita tra le tante città italiane che hanno già ospitato questo evento perché questa è la seconda edizione dello Sport City Day, quindi siamo particolarmente onorati di essere entrati a far parte di un circolo esclusivo di città che puntano sulla sportivizzazione. La sportivizzazione è una cosa molto importante ed è una delle finalità del programma di mandato del Sindaco. Per il momento è tutto, questa edizione termina qui. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti.